Così ricorda un po' chi? Sì, 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 vai. Allora, Sandro Ruffini ho un caro saluto. Cacchio, ma lo sai che sono triste? Sì, perché mio figlio Chris ha avuto un incidente in macchina, stava con i suoi amici e la macchina si è capovolta, si è rotto il braccio destro. E ancora non ha capito perché la polizia sta indagando sul sinistro. Eeeh!